Torna l'impegno nel sociale per i ragazzi di San Rocco con questa pista teatrale dedicata ad Aldo Moro. Sì, infatti noi con la nostra rassegna di teatro in sala da qualche anno ci siamo dati l'obiettivo di arricchirla almeno di un evento dedicato al teatro civile, di impegno civile in qualche modo. Abbiamo colto al volo l'occasione del premio a Nicola Giacumbi per creare un evento insieme con il Rotary e Sala Consilina Vallo di Diano sul tema della legalità. Si ricorda la figura di Nicola Giacumbi e quindi lo spettacolo che poi a seguire dopo la consegna, la proclamazione del premio è ancora sul tema purtroppo del terrorismo, quindi con questo spettacolo sul caso Moro. È un modo da parte nostra per incentivare la riflessione su un tema in questo caso ancora irrisolto.